salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di lucro.it pro e oggi faremo un episodio di out break con nicolas ciao bella lo salto il cosa il di la scena vabbè la scena che esce la salto la scena guarda che stai il signore in macchina vabbè non penso di raffredd vabbè tanto ormai è finita tre giorni dopo vabbè salta tanto non me ne frega niente allora che è normale o pandemia che cambia? non lo so non mi ricordo lui no pandemia con fuoco amico pure vabbè fai che è normale eh sì normale out break normale no no video normale e poi farò la live no siamo in tre ce n'è un altro ma in tedesco si fa ah ok andiamo in certo di gioco no no si sta parlando è pure italiano quindi e che fa casino zio ciao sono sto facendo il video su youtube boh non parla intanto non parla quindi è potete vedere la chat di party ok raga siamo tornati in chat di party perché scapiamo bella e mo parla ma che e mo che non ci siamo parla guarda ying proprio fiera che sono io sta lì al centro ah che praticamente che sono degli zombie trovo un punto debole ma dove è cambiato tantissimo rainbow come si sposta ma come si gioca devi sparare a sti zombie e si devi uscire ma è facile non è facile vabbè lo dici tu oh lì c'è uno giallo e quelli vabbè l'ho ucciso c'è uno rosso è c'è uno rosso che ti ho un altro che vieni da noi nicolas c'è un bisogno urgente è meglio se spegni le torce se non li infastidisce qua dobbiamo piazzare qualche cosa che cosa tieni premuto per piazzare non so neanche che cosa ma io piazza a casa qui si può curare qui si prendono munizioni difende gli esplosivi che invece io me la campero qui per fortificazioni ok abbiamo provato a leggere ce ne sono due qua nicolas se vieni qua e curati e mi sono sei grafico zio sono un poco lo vai andiamo in base e ce la conveniamo no no zio io voglio giocare io non capo e mai vieni in base ed è uno qua fortifico io ho fatto è che ho 12 figli aiuto 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 ho pochissima vita devo cambiare carica non mi hai tanto gli esplosivi sono sotto a te aiuto aiuto sono troppi sparo una granata a caso pure io se sparo la mia granata mi sta uccidendo nicolas attento 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 ha le bombe le bombe le bombe è fighissimo attaccano gli esplosivi io mi devo curare ok aiuto ti ha fatto esplodere vai granata granata io volendo li posso accecare tutti accecali carica sostituita siamo ancora in gioco stai faccio le barriere io eh carini attento agli esplosivi aiuto a sparo a tutti ho lanciato la granata ho messo le flashbang aiuto 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 scappo 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 65 di vita e vado di pistoletta pure 40 di vita devo ricaricare aiuto c'è un'onda qua mi li ho portati tutti io qua perché dovevo ricaricare esplosivi sotto attacco attenti copertina del video questo qua che mi spunta addosso 11 di vita no è finito neppure no è finito neppure aiuto c'è uno gigante ciao io sono morto aiuto qualcuno mi curi grazie quello di far schiantare contro i muri ma non franci non lo curati tu quattro di vita veloce curati ecco che cosa mi devo curare con qualcosa ecco la caccarosa dai andiamo a un'altra zona vai scappiamo di un'altra zona seguitemi giuro che esplode questo se mi esplode addosso mi ammazza con un 4 di vita qualcuno doveva prendere il dock e dove mi curo oh qui medicit ci godo un bordo che basta stai di gambe lo sai non mi ne frega niente l'importante è che mi sono curato è vero scappa andiamo a curare i monofranci vabbè lascerò morire a quello che è il nicolas si vede un po' agitato un po' tanto devo cambiare il caricatore è morto quello grazie però non ci seguiva no andiamo in quella base boss 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 mi ha pesci in pieno oh no andiamo in là scappa 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 E fortificazioni Sono sicuro, sto meglio E quando finisce questa missione Quando li sconfiggi tutti C'è uno che esplode Uno mi ha buttato a terra Vai scappa Non sono morto Io lo sai Mi scappa È morto È morto È morto Vai Raga il video mi dice qui Bella